quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore anzi il cantastorie 30 anni di vita canzoni viaggi persone storie appunto e ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'auditorio un parco della musica ennio muricone di roma incontro persone amici colleghi che per un motivo per l'altro per me sono state o sono importanti io sono daniele silvestri e questa è le cose che abbiamo in comune un video podcast targato fandango live signore e signori fiorella mannoio buonasera e scusate se poco grazie 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 di cuore che emozione rivederlo forse è la cosa che ti invidio di più di tutto quello che hai fatto cioè essere stata anche un accanto a una delle donne più incredibili e straordinarie che e lo era lo era veramente lo era ne ha insegnato moltissimo questo è un applauso per monica vitti sì assolutamente forti tra l'altro quella canzone io l'adoro mi fa impazzire non sens proprio la bellissima sì devo dire che allora questo gran privilegio in cui sei capitata purtroppo per te è un piccolo è un format vero e proprio un talk anche un podcast che poi potete ascoltare rivedere perché anche video podcast che ha un titolo geniale come vedi veramente straordinario ci siamo sforzati eravamo 14 autori e anche una sigla più o meno della stessa qualità gliela fate sentire per favore grazie brutta che sigla con la roba lì un po anni 80 così mi piaceva allora fiorella sono quasi emozionato un po lo sono perché l'occasione vorrei fartene una marea di domande anche perché è strano anche per me stare qui e sentire sì perché alla fine qui sei costretta intanto a rispondere non ci può partire la cialatta come si dice su altri discorsi ma devi proprio rispondere allora intanto lì abbiamo saputo una cosa che forse ogni tanto ti è capitato di raccontare chi ti conosce la sa c'è il fatto che tu abbia fatto per un po la controfigura soprattutto di monica di monica ma perché di famiglia anche giusto dopo a sì noi andavamo andavamo tutti poi papà non c'è più ma tutta la famiglia andavamo tutti a cavallo per cui a quei tempi non c'erano delle donne che sostituivano le altre donne su scene un po pericolose lo facevano gli uomini vestiti da donna e mi chiamarono la prima volta avevo 14 anni mi dice ma ti andrebbe di fare una scena a cavallo io ho domandato a mamma papà mi ha detto se ti va a farlo e ho cominciato e da lì hanno cominciato a chiamarmi e l'ho fatto per alcuni anni non moltissimi però ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare soprattutto con lei quattro film ho fatto con lei in una hai preso pure un po di schiaffi giusto? sì poi ho fatto quella famosissima scena di amore mio aiutami quando scene che oggi per esempio con il politicamente corretto non si potrebbero più fare cioè quella scena tra le dune del litorale romano c'è quella scena in cui i sordi la picchia e dice di che non lo ami e lei sì che lo amo di che non lo ami quella scena lì con lui che la menava e lei cadeva quella scena lì sono io naturalmente gli schiaffi erano finti ecco poi dopo aveva preso gli schiaffi da sordi ci mancherebbe che me menava pure va bene pure no erano tutti finti però quella scena lì e poi l'ho sostituita in tanti altri film ma scusa famiglia di cioè tu ti è andata a cavallo due domande uno il cavallo c'è ancora nella tua vita? purtroppo non più non ci vado da tanto tempo poi ultimamente sono stata pure operata termine al disco ormai me lo posso proprio dimenticare però con molto dispiacere devo dire la verità perché quella è una passione che alla fine non ti abbandona mai è quello che sento dire a chi ama davvero i cavalli sì non ti abbandona mai ti piace poi piano piano e va avanti con gli anni impari anche a rispettarli per cui anche questa è un'altra parentesi perché spesso si monta a cavallo con la voglia di correre non si pensa mai che quello è un animale che va rispettato per cui comincia ad andarci sempre più piano sempre più rispettosamente però adesso credo che non per me è una stagione chiusa basta io volevo sapere solo questo quindi ecco no no cantiamo no no aspetta ancora un po' no l'altra cosa ti volevo chiedere sempre su questo ma perché purtroppo mi vengono lì per lì non so se è così cioè io mi ricordo sapevo che in quell'epoca forse o comunque non c'è stata un'epoca in cui soprattutto per chi lavorava per il cinema a Roma in particolare c'erano proprio un paio di non dico clan ma insomma di famiglie che si rivedono credo tra cascatori e picchiatori non so quali erano le definizioni no c'erano quelli che si occupavano di cavalli come quale mio fratello mio padre la famiglia che si occupava di questo erano proprio specializzati con tutte queste scene a cavallo poi c'erano quelli invece i stuntman che facevano le scene quelle che si buttavano dai tetti quelli che facevano le scazzottate poi andavano molto c'era tutto un periodo di spaghetti western per cui c'era molto lavoro a Roma era forse una delle attività principali per la cittadinanza senti ma è vero questo pure l'hanno detto già tante volte ma che sei stata bocciata allo zecchino d'oro a sei anni sì è vero ma se ti racconto il perché fa veramente molto è molto curioso e poi la dice lunga anche del carattere che ho e di questo orgoglio purtroppo con il quale ci faccio i conti da tanto tempo che cerco di io andai allo zecchino d'oro con una canzone che si chiamava Fagiolino non mi chiedere non me la ricordo no, noi l'abbiamo preparata no, non la sapete pensa che l'andavo a ricercare ma non l'ho mai più trovata per cui mi piacerebbe anche a me ricordarla ma non la ricordo mi ricordo che si chiamava Fagiolino mi ricordo che mia mamma mi portò appunto all'Antoniano e c'era una giuria c'era un tavolo lungo con tutti alcuni preti alcuni maestri di canto che giudicavano i ragazzini che si esibivano ma io già ero abituata ai palchi perché già cantavo sui palchi col microfono per cui quelli mi hanno fatto cantare lì davanti a quella giuria così senza microfono e cantai in falsetto cioè perché nella mia testa io pensavo adesso mi portano sul palco cioè quella è solo una prova e lui non ho cantato a voce piena cantai in falsetto piano piano e quando chiamarono mia madre diceva ma la bambina è molto educata perché io l'ho salutata tutti ma io ero abituata già ai palchi ero navigata a sei anni me ne avevo otto o nove ma insomma cioè io ho sei anni la prima volta che sono salita sul palco ho cantato vecchio frac per cui ecco per cui per dirti per cui ho pensato dico adesso finalmente canto davvero mi portano sul palco e canto e quella gli disse la scudrinatrice adesso non mi ricordo la maestra forse gli disse è molto intonata va a tempo ma non ha voce e la madre dice come non ha voce e no la bambina ha una vocina così esile pensa io che sembra la sgarambona già ero sgarambona da prima per cui mamma mi faceva ma no non è possibile ma io avrei potuto dire qualcosa e lei mi guardava e io non ho proferito parola perché capirai mi sembrava brutto comunque e allora è passata così e non andai giudizio illuminato e lungimirato non andai allo zecchino d'oro che cazzo che peccato vabbè poi a un certo punto però il lavoro è diventato quello ma invece tu cantavi praticamente da sempre ma la domanda è visto che è un po' di tempo che lo fai ma ti sei mai rotta un po' i coglioni guarda tutte le volte dico basta ma me ne vado in pensione mi sono stufata adesso basta però la verità è che quando monti qua sopra scatta ancora e quando monti qua sopra ti rendi conto che questa è la tua vita questa è casa tua io ho passato più tempo qui sopra che come dico sempre sulla terraferma sono 50 anni che vado in giro per palchi ma che cazzo posso fare quanti ne hai fatti di Sanremo tu? questo era il sesto in gara poi ci sono andata altre 5 o 6 volte è la sesta volta come me io quando tu sei andata a Sanremo quest'anno dopo che ho sentito anche il pezzo ho avuto una paura proprio netta preciso mandi quella foto Luca sai quella quella seconda che ti ho mandato ho avuto paura e dico stavolta mi raggiunge no guarda non c'è non c'è non c'è pensato proprio perché l'unica volta che ho sfiorato il podio è stata la volta precedente no no ma qui sono i premi della critica sai ah questo ah giusto scusa non avevo letto premio della critica eh sì ma non era per vantarmi era per dirti di premio della critica sì prima ho sentito che ne stavi parlando fra l'altro però l'ho pensato anch'io che giustamente quel premio si chiamava Mia Martini no era giusto e anche guarda lo aspicavo anche ma forse un po' tutti che lo dessero a lei era giusto dopo tanti anni poi quello apporta il nome della sorella ed è giusto che Loredana abbia vinto il premio della critica ci sta sono d'accordo se lo merita devo dire che però il premio come miglior testo ci speravo onestamente al podio non avevo pensato minimamente perché non si può neanche pensare di mettersi come dire in competizione con ragazzi così giovani che hanno talmente tanto tanti tanti giovani che li seguono noi abbiamo un pubblico almeno io ho un pubblico adulto non si mette lì con i telefonini quelli prendono il telefonino della madre del zio del nonno sai come fanno i ragazzini ed è giusto è il momento loro guarda sono andata lì molto serena sapendo avendo la consapevolezza di avere una bella canzone ne vado fiera per cui qualsiasi cosa fosse successa andava bene infatti me la sono vissuto questo Sanremo veramente in tanta con tanta allegria proprio mi sono veramente tanto divertita cosa non scontata non scontata neanche le giornate che sono tutte quelle giornate piene zeppe di roba che devi fare che è la cosa immagino che odi di più come un po' tutti beh sì cioè l'ultima cosa a cui pensano tutti lì è che noi dobbiamo cantare sì ma a parte quello poi finisci per passare quei dieci giorni perché in genere non è neanche una settimana a vendere te stessa in qualche modo a ripetere più o meno sempre le stesse cose però poi a un certo punto ti scatta questa sensazione che hai descritto prima per cui tutto sommato intanto ci sono altri che vanno avanti io posso pure permettermi di prenderla serenamente sì ma infatti alla mia età è come se avessi giocato un altro campionato ecco sono andata lì con la consapevolezza di una cantante che ha la mia esperienza ma questa scelta di dire una bestemmia di una cantante oddio ma lo sapevo che me l'avessi io te conosco hai girato intorno perché ne ero certa che mi avresti fatto questa domanda vabbè avrai riso pure a voglia no ma io quello che dico che abbiano capito fischi per fiaschi ci può anche stare tante volte noi capiamo delle cose nelle canzoni perché abbiamo sentito una parola piuttosto che un'altra ma lì come si può pensare che io sia andata veramente sul palco di Sanremo a bestemmia io in quel caso in quel caso avrei fatto io quello che fanno i giovani avrei preso tutti i telefonini a distruzione per votarti però questo è il gusto personale per cui ci ho riso anch'io alla fine alla fine ora la sento pure io il problema è questo che adesso da che non la sentivo e dico ma dove l'hanno sentita allora ho ripreso il testo e mi sentivo cantare orgogliosa canto orgogliosa canto dove sta bestemmia dove sta quando l'ho agganciata adesso la sento o mi raccomando adesso se non ridete se la facciamo adesso non lo so quello che faremo io ci volevo provare in realtà la speranza era proprio che capitasse quello però ci staremo attenti vi prego vi guardo anche se c'è la luce io vi vedo non ridete senti ti rubo ancora un attimo per due o tre cose in fretta però in realtà adesso stiamo ridendo però una delle cose che ci accomuna credo che sia anche il fatto che tu nella vita ti sei spesa tante volte ci hai messo la faccia tante volte io ogni tanto ti rompo le scatole e ce le rompiamo a vicenda su qualche battaglia che stiamo seguendo in genere per scoprire che l'altro ha già firmato ha già aderito quasi sempre ce n'ho pure una da dirti mi sono scordato te la dico adesso no te la dico dopo vabbè quando vuoi c'è da firmare se me lo chiedi tu firmo un po' di più che firmare in questo caso però secondo me direi di sì vabbè te lo dico te lo dico dopo l'hai fatto tante volte sei a parte che sei anche credo la presidente di una nessuna sì sono presidente onoraria di questa fondazione ma che succede a proposito lì dunque noi abbiamo fatto il concerto al campo volo si intitolava una nessuna centomila e abbiamo raccolto più di due milioni di euro che abbiamo devoluto ai sette centri che avevamo scelto io mi sono fatta consigliare da chi sul campo perché io non lo so e allora sono andata da donne e persone amiche che conoscevo tra i quali Giulia Minoli Celeste Costantino e Lella Palladino che sono su questo ambiente che lavorano dentro proprio e con i centri antiviolenza molto più di me perché io non ne conoscevo per cui mi sono fatta consigliare da loro abbiamo scelto questi centri soprattutto al sud d'Italia che sono i più penalizzati e comunque più sguarniti più poveri ecco diciamo così a livello di fondi finito il concerto però ci siamo guardate e abbiamo detto ma finisce tutto qui cioè abbiamo fatto abbiamo raccolto sti soldi e poi adesso che facciamo niente più e allora abbiamo costituito abbiamo deciso di costituire una fondazione proprio una nessuna centomila adesso il 4 e il 5 di maggio saremo all'arena di Verona di nuovo per raccogliere fondi però lavoriamo sul territorio cerchiamo di incontrare nelle scuole parliamo cerchiamo di capire insieme ai ragazzi come si può fare questo percorso insieme uomini e donne perché anche questa narrazione che sembriamo le donne contro gli uomini tutto sbagliato non è così noi dobbiamo cercare di come dire sradicare questi stereotipi che ci portiamo dietro noi come donne e gli uomini come gli uomini cioè cerchiamo di fare insieme questo percorso perché c'è tanto da fare e solo insieme lo possiamo risolvere e allora noi continuiamo adesso ad avere a fare iniziative a raccogliere fondi a parlare con i centri antiviolenza a sondare dove servono dove per esempio abbiamo aperto noi il primo sportello nella Locride nella Locride non c'era niente abbiamo aperto questo sportello non è ancora un centro di violenza ma uno sportello appena aperto entro la prima settimana hanno avuto 60-70 chiamate per cui il problema è serio e c'è un sommerso che noi non immaginiamo per cui abbiamo preso questa come impegno e lo portiamo avanti bravo 4-5 maggio ultima cosa non voglio rattristare niente nessuno e non si chiude normalmente però non è che dobbiamo per forza dire qualcosa però siccome in questo mestiere ci sono delle persone uniche e tu lo dimostri tu un po' unica lo sei sempre stata ci sono anche quelli che stanno dall'altra parte che ogni tanto sono unici soprattutto nel modo in cui riescono a raccontare che cosa è stata la musica che cosa è diventata e come Ernesto Assante pochi ce l'hanno raccontato mi sembrava giusto grazie perché condividiamo anche Ernesto credo continuate questo applauso per Fiorella Mannoia è stato è un grande dolore per tutti noi sì davvero anche perché così improvviso però per risollevarci il morale non succederà mai una sigla ora è la Mannoia grazie è mo ti tocca è mo ti tocca allora intanto che grazie a tutti